ciao massimo benvenuto oggi 30 gennaio 2021 e quindi partiamo la terza puntata di vieni con me che poi appunto è una possibilità la nostra idea che noi diamo a chi volesse sfuggire dalla situazione mostruosa che si sta verificando in italia ma non solo in italia e adesso speriamo una pronta come dire partecipazione nostri amici ma soprattutto nel loro diciamo così che si spera tanto e non loro domande proposte insomma si pretenderebbe un po a me da parte mia un po più di partecipazione a certe a certe discussioni perché è solo di interesse notevole il lavoro che tu hai fatto in questi tempi quindi andrebbe a mio avviso ravvitato di più da parte di chi ci seme ci ho detto comunque ti passo la parola per introdurre la puntata di oggi prego allora grazie maldo sì oggi un saluto a tutti oggi finiamo con la terza puntata diciamo la serie dedicata un po così al discorso del piano b e vieni via con me e anche al discorso dell'oro e quindi rivedremo alcune canzionalmente faccio un saluto a tutti concetto a tutti allora io inizio leggo leggo qualche cosina oggi come al solito poi facciamo dei commenti oggi sarà comunque lo dico subito una puntata anomala una puntata nella quale faremo anche delle battute farò delle battute spero che la prendiate con la con lo spirito giusto perché poi alla fin fine e quello che vi dico comunque molto importante anche per mio approccio a 365 gradi nonostante si debbano fare le cose fatte bene bisogna anche prendere con filosofia cioè prendere le cose un po come vengono provare provare sempre però prendere anche un po le cose come vengono ecco senza farsi prendersi farsi un cruccio se non si arriva a quello che ci che ci che ci si era preposto allora iniziamo dal quesito che avevo fatto la volta scorsa chiedendo il discorso della moneta puoi farla vedere la moneta quella che c'hai Ubaldo partiamo di l'ho già messa in evidenza già si vede si vede ecco questa è una moneta un po particolare perché è unica nel suo genere allora io ho fatto una domanda chiedendo insomma se gli amici potevano e ci sono state un paio di persone che hanno cercato la moneta però non l'hanno trovata mi hanno dato le informazioni in parte giuste ma non complete allora vi leggo io qualche cosa così almeno si chiarisce e vi do la risposta eh allora vi leggo eh questo è stato ripreso da un articolo scritto da il cavaliere james aim marplus che dice questa è una rarissima scusate un attimo qui fa così ecco questa è una rarissima medaglia russa a doppia testa con occhio eh emessa dallo con l'occhio che vede tutto emessa dallo zar Nicola I nell'anno 1849 per la pacificazione tra Ungheria e Transilvania perché erano state in guerra precedentemente è frequente trovare in araldica l'aquila bicipide negli imperi reali come gli Asburgo e l'impero russo e anche come emblema nella massoneria del rito scozzese antico accettato ma vedere un'aquila doppia incoronata con l'occhio onniveggente all'interno del triangolo è una vera rarità infatti è una moneta unica al mondo l'esempio seguente è l'unico eh del genere che io abbia mai visto dice l'autore questa medaglia appunto fu messa da da Nicola I e per c'è raffigurato lui lo descrive dicendo che c'è raffigurato questo triangolo lo vedete in alto no? che è il triangolo della piramide è l'occhio che lui qui lo chiama della provvidenza di Dio onnipotente ora io non lo so se è l'occhio di Dio onnipotente a me non risulta però questo è quello che dice lui sopra un'aquila bicipite coronata con le ali verso l'alto lo scudo con l'armatura con lo scettro e poi tiene appunto con gli artigli da una parte c'è lo scettro e dall'altro c'è la sfera che poi rappresenta il mondo penso che valga la pena notare l'occhio onnipotente dice l'autore del Dio onnipotente posizionato sopra la corona reale e artificiale gli artigli dell'aquida eccetera eccetera poi naturalmente l'articolo è molto lungo io vi ho fatto una sintesi perché effettivamente è questo qui quello che si doveva sapere due parole come vedete qui in alto c'è ci sono due cose importanti Ubaldo no qui che cosa c'è me lo puoi descrivere te mi dai una mano così nella descrizione cosa si fa un attimo dico subito dico subito ecco prova a descriverla te brevemente no così qui c'è questo tu parla della moneta no la moneta quindi change cos'è no è scritta in cirillico lì quindi poi c'è questa l'aquila c'è un alla piramide sopra c'è la piramide piramide poi cosa c'è dietro la piramide e poi dopo c'è il sole dietro e poi sotto c'è lo scettro sempre la combinazione vedete triangolo e sole non è il sole come sappiamo è dal punto di vista simbolico spesso e volentieri si accompagna come nel dollar americano a questa immagine quindi questo già già questo di per sé ci deve far riflettere e dire ma com'è possibile che Nicola primo abbia usato un'immagine del genere che poi la stessa immagine che troviamo adesso sul 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 dollar americano ecco vedete vedete la simbologia ci deve aiutare stimolare a ragionare su queste cose scusa mi sono interrotto continua pure la presentazione sotto c'è la corona vedete la corona che fa parte poi insomma del simbolo e comunque questo simbolo nell'insieme come ha detto l'autore è lo stesso simbolo che noi troviamo dove troviamo qui che cos'è questo qui Ubaldo? questo qui questo abbiamo orbo a ciao qui c'è anche qui la stessa cosa c'è la sole ma che cos'è questo qui l'abbiamo visto in precedenza no? questo qui è il simbolo è il simbolo del rito scozzese della massoneria vedete? antico accettato esatto è il famoso ordo a caos che ne abbiamo parlato tante volte è il loro motto come vedete c'è una stretta relazione tra dal punto di vista simbolico evidente tra questa immagine e quella della russia vedete questo qui è l'emblema russo vedete vedete quindi in questo caso ci si deve chiedere come mai l'emblema di putin che rappresenta adesso la russia e putin è lo stesso del rito scozzese della massoneria io lo metto lì così so che putin ti piace così almeno ci rifletti sopra ci piace diciamo che qualcosa ha fatto ma ma c'è da c'è da chiarire molte moltissime cose su putin per capire chi sta dietro di lui e tante altre cose c'è da chiarimenti da che bisogna veramente focalizzare e spiegarli bene ma è un po' difficile allora se te segui la simbologia come ho cercato di trasmettervi poi lo vediamo anche dopo tante volte ecco se te segui i simboli i simboli non mentono mai sì questo sì questo sì quindi uno poi dopo può girarci come vuole però dovrebbe prima partire dalla conoscenza dei simboli e dei segni e poi dopo arrivare alle parole eh allora andiamo al punto successivo punto successivo vi faccio vedere vi faccio vedere andiamo a questa questa immagine qua brevemente eh non voglio tediarmi con queste cose è il sito nostro è il sito mio vedete esatto prima da come ora ufficialmente vi annuncio che finalmente ecco vedete adesso vi faccio vedere i tre volumi sono finiti come vedete ho scelto una un'immagine patriottica in un certo senso perché questa è la bandiera americana erano tre volumi ho detto devo scegliere evidentemente tre colori diversi fammi scegliere la bandiera italiana così almeno si fa una cosa patriottica e il volume ultimo quello rosso il volume tre è in via di ultimazione quindi se qualcuno è interessato la prossima settimana dovrebbe essere a disposizione è andato tutto bene con amazon hanno fatto un lavoro io devo dire eccezionale sarebbe stato impossibile per me stampare queste cose se non ci se amazon non non esistesse e quindi come vedete come sempre nella disgrazia in un certo senso insomma in tutte le cose negative che amazon può portare purtroppo alla società e sono vere ci sono anche degli aspetti positivi e quindi bisogna sempre cogliere le cose anche nel senso positivo allora brevemente se volete io c'ho per la consulenza poi ne parliamo dopo vedete qui no per il piano b di consulenza viene via con me potete fare una donazione per avere informazioni dettagliate precise intendo dire non generiche come quelle che vi do adesso naturalmente dovete fare una piccola consul una piccola donazione di 96 euro che sono esattamente gli stessi dell'abbonamento mensile vedete sono altri amici hanno fatto l'abbonamento mensile quindi ci scambiamo idee opinioni e c'è dario che per esempio sta lavorando dottor dario sta lavorando su un libro sto cercando di dargli una mano e per alcune persone interessate mi fa piacere che mi hanno contattato con dei progetti anche abbastanza interessanti ecco ora l'offerta per quello che riguarda invece i tre volumi se uno volesse comprare direttamente la triade e lo trovate sul sito a mente aperta punto net cliccando su consulenza online oppure anche offerta libri trovate poi la cifra lì i tre volumi in il prezzo regolare è 216 il col 33 per cento di sconto viene il prezzo di 144 euro che noi voi non dovete assolutamente spendere se non ce li avete perché potete scaricare il formato ebook gratuitamente cliccando sul sito libri quindi io metto a disposizione i miei lavori sperando che più gente possibile legga perché questo è l'unica via possibile quindi io quello che voglio fare poi chi vuol fare una donazione chi vuol comprare i libri per averli adesso i libri sono disponibili ma io non lo so se saranno disponibili in futuro eh sapete come vanno le cose non lo so quindi se uno li compra li compra se li rimangono per tutta la vita se uno non ce li ha magari c'ha il formato ebook va bene lo stesso allora cambiamo argomento adesso parliamo della famosa censura su youtube ora per me come come bene o male persona che ci ha messo la faccia in questi mesi sarebbe molto facile molto comodo dare addosso a youtube no come fanno tanti la censura qui ci censurano di là si lamentano qui si lamentano là però io cerco di vedere le cose sempre per chi mi in maniera più onesta possibile e da una prospettiva un attimino diversa cioè quando tutti guardano ad est io guardo ad ovest quando tutti guardano ad ovest io guardo ad est ecco questo se usiamo se usiamo questo approccio difficile da fare non lo possono fare tutti però si riesce a vedere le cose anche in maniera un pochino più obiettiva cosa ne pensate allora io vi faccio partiamo dalla censura e partendo dalla censura baldo spero che non ti dispiaccia voglio proprio partire da quello di cui abbiamo parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti vedete questa immagine qua ecco ecco questi vedete sono i video ordinati no per numero che abbiamo fatto insieme caricati sul mio canale di youtube massimo michele guerrieri ora 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 vedete quando vedete qui ci qui ci sono i video tutti numerati al centro c'è quella che si chiama visibilità sotto visibilità lo vedete bene lo ingrandisco un po si si grandisci ecco vedete sotto visibilità lo vedete qui ecco ci sono dei delle opzioni all'interno del dei settings no come vedete in questo caso il piano b che abbiamo fatto 1 e 2 lo vedete no qui sulla sinistra io le ho rese pubbliche perché queste sono informazioni per tutte non c'è bisogno di auto censurarti mentre invece così come l'intervista di morris a proposito ho fatto un'altra intervista eh quando era martedì questo martedì che dovrebbe essere mi ha promesso che me la mette pubblica a giorni probabilmente in settimana subito prima possibile ecco però vedete quando si quando mi sono trovata a salvare e la serie dedicata al pentagramma segreto in quattro puntate naturalmente l'argomento e non è un argomento per minori è un argomento per adulti e vedete che in questo caso io nel setting l'ho fatto con age restriction cioè con la restrizione solo per maggiorenni vedete e tutte la serie Ubaldo dedicata può continuare andate giù tutti i nostri video io per evitare la censura e questa è anche un'altra ragione per la quale sono stati pubblicati ho messo il limite che possono vederli soltanto gli adulti quindi forse forse quando invece i video sono censurati e ve lo dico la persona che si occupa un po' di pubblicità questi queste cose qui ormai ce le ho nella testa no ecco youtube intercetta in particolare quei video che non sono stati riservati a un pubblico adulto perché quelli invece che hanno un contenuto magari abbastanza forte che si sono in certo senso come ho fatto io autocensurati ci guarda li seleziona ma a 99 diciamo nel 75 80 per cento dei casi li lascia quindi è molto importante per chi opera a livello di internet sapere queste cose e io vi posso assicurare che la maggior parte delle youtuber si lamentano della censura però non adottano e queste diciamo la tecnologia non salvano i video nella come diciamo la procedura prevederebbe mi sono spiegato hai capito no allora vediamo vediamo quando si apre ora non vi voglio annoiare con queste cose mettiamo il caso io devo salvare un video che ho appena caricato il video 50 il nostro piano b viene via con me eccolo qui c'è un titolo definite il titolo e poi se definite se volete una descrizione sotto con un dettaglio ulteriore di quello di cui parlate di sotto vedete scrollate giù il video e di sotto vedete qui c'è scritto playlist se uno ha creato una playlist apposita naturalmente come ho fatto io sulla mia sul mio canale trovate la playlist dedicate ogni playlist dedicata a tutti gli argomenti che abbiamo trattato tutti in ordine così non c'è confusione in questo caso io salvato naturalmente la seconda puntata del piano b all'interno della playlist piano b vedete andiamo avanti se scrollate ancora più giù la pagina vedete il punto centrale che vi dicevo trovate a un certo punto dove vi dice fatto per bambini o non fatto per bambini e io naturalmente qui dovete ripeto per particolari video assolutamente selezionare no se no andate certamente in censura ve lo dico subito così in questa maniera avete più possibilità che lo lasci in andare perché ci vuole una sorta di prerequisito per accedere al video è un limite dal punto di vista delle visualizzazioni ma almeno il video non viene censurato andiamo avanti quella successiva ecco a questo punto cosa fate voi a questo punto vi chiede in che lingua è vi chiede su ulteriori se volete scrivere ulteriori dettagli vi chiede la data in cui è stato fatto e vi chiede la licenza che volete fare che decidete tra youtube e quell'altro a me si chiama comedy in something non ricordo c'è un'altra opzione su questo all'interno scrollate ancora giù la pagina e all'interno c'è la categoria dove dovete selezionare queste cose allora attenzione tutti questi prodotti qua devono assolutamente essere classificati entertainment intrattenimento only solo intrattenimento perché se non fate questo quello che dite all'interno del video diventa una sorta di automaticamente vi riconoscete un'autorità in quello che dite un copyright ora mi sfugge la parola c'è una parola precisa quindi io suggerisco tutti di mettere intrattenimento così almeno è per intrattenimento e vi lasciano andare non vi stanno vedete qui in questo caso qui eccolo qua aprite questa cosa qui selezionate intrattenimento e poi arriviamo all'ultimo punto che è quello che cercavo di spiegarti a te l'altra volta l'ultima l'ultimo diciamo finestra di setting è questa sulla sinistra vedete qui ci sono i commenti e il rating allora all'interno della di questa finestra voi potete scegliere che volete vedere tutti i commenti oppure scegliete un'altra un'altra opzione per cui limitate tutta una serie di commenti potete anche mettere senza commenti che non volete vedere commenti sulla destra invece c'è una finestra attraverso la quale voi potete ordinare i commenti dal punto di vista cronologico ed è importante farlo cioè selezionare i più nuovi così quando per esempio una persona come me che ha fatto un video va al video e vuole vedere i commenti i commenti sono tutti in ordine cronologico se no internet ti mette commenti in ordine di importanza importanza rispetto a cosa io non lo so e quindi non non è che a me mi dia dante informazioni c'è da riscrollare tutti tutti di nuovo tutti i commenti per andare a cercare quelli nuovi quelli vecchi divento matto e poi naturalmente ne perdo qualcuno quindi un lavoro accurato l'autore lo può fare di risposta proprio no perché è importante rispondere ai commenti quando i commenti sono interessanti soprattutto si può fare soltanto se si seleziona in questa finestra i più nuovi cioè te li metti in ordine cronologico allora andiamo un po' ritorniamo tutto chiaro sono domande cosa dicono gli amici c'è c'è qualcuno che fa domande intelligenti no al momento non ci sono domande insomma dobbiamo dire che stiamo vedendo video pornografici cosa vuol dire questo sì bravo bravo brava concetta ora ci arrivo proprio mai mai nel pensiero mai nel pensiero infatti qui infatti non a caso infatti non a caso io qui sulla mia pagina ci ho ci ho scritto ci ho scritto al punto 2 censura come sia facile complicarsi la vita da solo da soli peggio della pornografia regole e come parlare in pubblico senza essere bannati o finire in prigione perché vi dico finire in prigione perché il punto successivo è quello del caso di Roma di rosario marciano di cui parlo con dispiacere con dispiacere ora poi vi spiego perché ma con piacere allora riguarda il discorso della pornografia qui ci sarebbe da fare una serie dedicata solo alla alla pornografia non c'è tempo di farla mi ero ripromesso di farla è un tabù di cui nessuno vuole parlare ma vi faccio notare soltanto questa cosa qui e vi faccio una domanda faccio una domanda semplice ubaldo secondo te perché ci hanno dato internet bella domanda diciamo che per controllarsi per sapere cosa pensiamo per sapere i nostri orientamenti sia dal punto di vista dei bisogni sia dal punto di vista diciamo dell'idea ideologico politico economico eccetera questo diciamo che tutto questo è un grandissimo infinito organo di controllo in più hanno la tua visibilità sanno chi sei fotografie tutto quindi certamente queste cose io l'ho pensato da un po ecco allora quello che dici è ovviamente condivisibile no perché è vero però è un atteggiamento un po ingenuo e ora ti spiego perché questo è il commento che farebbero tutti no in effetti quando loro si inventano queste cose lo fanno sempre per obiettivi multipli come vedremo dopo due o tre in genere lo sai che gli piace il numero tre lo fanno per tre obiettivi diciamo in questo caso l'obiettivo principale non è quello del controllo assolutamente perché con la tecnologia che hanno oggi potremmo controllano qualsiasi cosa facciamo col telefono non hanno bisogno di internet anzi internet è una spina nel fianco per loro perché su internet io tutta la mia ricerca l'ho fatta grazie a internet cioè se te internet lo usi nella maniera giusta te ci trovi un sacco di informazioni veritiere interessanti quindi loro hanno anche paura di questa cosa la prima ragione quindi per cui te lo danno è per fare soldi allora l'industria del pornografico e non ci ho visto nei dettagli quindi prendete quello che fate le vostre ricette prendetelo sempre così è certamente la maggior fonte di guadagno di internet ma non solo di internet probabilmente genera più introito della droga ora come ora ecco questo vi dà l'idea di come tante volte noi si perda di vista il punto centrale che per gli operatori è sono quelli dei soldi loro non sono interessati alle nostre informazioni personali a quelle che diciamo perché come vi ho appena detto ora c'è anche facebook stesso discorso per facebook queste aziende vogliono fatturare poi poi siccome hanno anche altri obiettivi e si 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 organizzano anche per per raccogliere dati naturalmente raccogliono questi dati che non potrebbero prendere in teoria per il discorso della della privacy personale ma è prassi che ormai lo facciano naturalmente poi lo utilizzano anche per altre ragioni no quindi per fare studi sociologici per vedere quello che la gente cerca quello che la gente vuole però in linea di massima capite tu tutto l'introito tra chi ti vende qui ci abbiamo godedi in america che è un sito dove compri domain fanno talmente sono tutti controllati dai servizi segreti evidente no c'è niente di male a dire queste cose perché effettivamente sono cose che anche risapute quindi sono sempre molti più gli obiettivi ma l'obiettivo principale sono sempre i soldi sempre i soldi va bene andiamo avanti per fare per dirvi brevemente quello che è successo un po di tempo fa ci sono altre domande ora concetta ti do la risposta sullo te l'ho già dato la brava esatto ragione la pornografia la dipendenza mi sono dimenticato lo dico subito una cosa molto importante importante che vi volevo dire così ci pensavo allora mentre io sono una persona a mente aperta no sapete 360 gradi a mente aperta io sono un liberale per me uno se non un reca danno a nessuno può fare quello che vuole in casa propria in particolare però se dipendesse da me mentre accetterei e permetterei tutte le forme possibili immaginabili legate all'aspetto erotico nel senso più esteso del termine vieterei assolutamente la pornografia perché la pornografia come abbiamo letto abbiamo studiato se si approfondisce un attimino la lettura del capitolo 1 il nuovo ordine dei barbari del capitolo 2 protocolli di toronto sono è proprio quella cosa che loro hanno creato e promozionato per distruggere la società e si comporta alla esattamente alla stregua di tutte le dipendenze esistenti quindi la droga il tabacco l'alco eccetera eccetera quindi dovrebbe essere trattata come tale e invece purtroppo siccome ci fanno enormi quantità di guadagni rimane lì ed è un completo schifo lasciatemelo dire disgustato perché io mi devo documentare su tutto e vi posso dire che cose talmente schifose come queste qui sono poi si dice che quello lì si comporta come un animale ma chi sono gli animali qui gli animali non fanno mai cose contro natura come sono gli animali noi saremo casomai non gli animali quelli veri noi siamo delle belle mostri gli animali no i mostri siamo noi allora ora vi racconta che minuto siamo siamo a 30 20 29 minuti ora vi racconto questa storia qui che è successa con marciano circa 6 7 anni fa lui aveva iniziato a parlare già da tempo di queste scie chimiche no di questo signora io non mi ricordo se l'avevo già scoperte le scie chimiche non ha non ha importanza allora io a un certo punto siccome lui io vedi che lui usava tutta una terminologia no diceva certe cose io dico ma tutto il come fa di queste cose avrò sicuramente dei problemi allora io lo chiamai e lì si senti rosario io faccio questo questo e questo e lo faccio a passate lo faccio come passatempo cioè non è che io ti chieda dei soldi ottica anzi gli avevo dato dei piccoli contributi prima e si senti io vorrei che tu riflettessi un attimino su come presenti le cose su quello che dici sai ci sono delle tecniche no che te puoi usare per cui si magari il messaggio perde un attimino di incisività però ti salvaguardia se usi tutta una certa terminologia o ti salvaguarda ad avere altri problemi grossi che puoi avere ce li avrai di sicuro e gli dissi se ti continui in questa linea qui te vai a finire in prigione vai a finire in una brutta fine è di ieri l'altro tre giorni fa la notizia che è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione e 50 mila euro di multa in una famosa sentenza che in questo caso non ha niente a che fare con le scie chimiche perché lui ha trovato naturalmente la maniera di fare le sue analisi che per certi aspetti eh rosario se mi se mi ascolti ti dico due cose io ho grandissima stima di te ma dal punto di vista comunicazionale sei un testone e non capisci nulla e quello che ti è capitato ti è capitato perché sei un testone a me dispiace dire queste cose profondamente ma quello che dico deve essere anche un monito a tutti gli altri che usano linguaggi simili senza rendersi conto di quello che stanno dicendo di come lo stanno dicendo questo ragazzi chiunque siate è sbagliato invece di fare polemica e criticare quello e quell'altro dovete cambiare atteggiamento documentarvi di più e criticare meno questo se mi permettete è un insegnamento che dopo quasi ormai un anno di interventi mi sento eh di volervi dare ma per il vostro bene perché io tanto dico da dirvi queste cose non ci guadagno niente ci perde basta a dire la verità la verità va detta in ogni caso se si vuole essere franchi amici perché se no allora questo che vedi Ubaldo come lo vedi lo metti in sovraimpressione per piacere si si è il conto corrente che potete usare e che vi invito a fare per dare una mano al testone rosario marciano che è nei guai naturalmente fino al collo e ha bisogno naturalmente di soldi per fare ricorso per fare queste cose io io gli darò il mio contributo sicuramente con la speranza con la speranza che si possa ravvedere in come in come presenta nel come presenta le cose perché altrimenti se no poi lo mettono in galera e fa la fine di altri che sono spariti e non vedono più l'aria fresca non respireranno mai più aria fresca perché non sapete ragazzi con chi avete a che fare credete bravo bravo eh sì questo è vero questo è vero no perché molti ignorano poi si beccano le sberle in faccia e dopo si svegliano ma a tempo molto ma molto ritardato con conseguenze nefaste purtroppo perché la mancata di studio di pregiudizio mentale portano a inciampare in certi ostacoli che poi ti fai male e questo è appunto bisogna dire questo io quando parlavo di certi autori che da da quasi un secolo e anche più avevano capito certe cose le ha denunciato cioè le cose di oggi certi autori pochi pochissimi hanno detto già più di un secolo fa più di un secolo fa l'hanno scritto l'hanno proprio messo lì in maniera chiara venivano derisi venivano derisi umiliati derisi e oggi certa gente dovrebbe chiedere scusa a quei signori anzi inginocchiarsi alla loro memoria e chiedere scusa perché l'avevano anticipato questi tempi ripeto li avevano anticipati poi le accuse quale sono nazista fascista revisionista complottista minchionista cretinate idiozie perché molti purtroppo specialmente in italia si mette sul piano ideologico qualsiasi cosa bisogna fare anche fare la cacca può essere di sinistra posta di destra dipende da fare col culo con la bocca no faccio per dire perché io adesso sono un po' incalzato a parlare così però in italia c'è questo maledetto idiotissimo vizio di non essere intelligenti di non capire e tutto va in ciacciara politichese infame miseranda fallita siamo ignoranti no no ma questo è un'intelligenza siamo ignoranti siamo non ci hanno purtroppo educato a certe cose fondamentali e tu automaticamente eh sì ma vabbè tutto collegato scuola dopo il 68 la scuola italiana ha avuto un declino della madonna eh tu io non ho mai sentito parlare nessun paese al mondo di dare il 18 politico all'esame ma stiamo scherzando e in italia succede queste cose qui poi basta vedere la magistratura magistratura democratica ma che cazzo significa tu sei un magistrato devi far applicare la legge punto che c'entra democratico devi far applicare la legge secondo la costituzione che il peso in cui tu poggi il culo ti ha dato e questo è su questi termini devi agire se la metti sul punto ideologico devi andare fuori dalle palle perché non sei più un giudice diventi un criminale capisci andiamo avanti grazie del commento condividono naturalmente andiamo avanti se vi faccio di queste immagini sapete di che film è questa immagine qua ricordi questo è Jack Nicholson no aspetta la scena la scena non mi ricordo aspetta un attimo cos'è che parla di qualche processo qualche cosa allora questo è codice d'onore no nel film nel film c'è Tom Cruise che sta cercando di diciamo di fare il processo a Jack Nicholson che è un generale di alto rango perché dice che ha mentito naturalmente è un film no però è molto famoso e questo è un'espressione che viene ripresa da tanti autori anche in America quando lì è interrogato a un certo punto è interrogato e Jack Nicholson ce la faceva più perché doveva rispondere alle domande questo avvocato che mi fa schiantare da ridere perché anche lì c'è un ordine gerarchico no capito quando mai un avvocato seppur del bar dell'ordine si può permettere di inquisire un generale ma un film e va bene no è un film ma e Jack Nicholson dice a un certo punto a un certo punto lui dice voleva la verità no naturalmente sotto giuramento e voleva la verità e Jack Nicholson a un certo punto risponde praticamente io la verità non te la posso dire perché la verità non si può dire non nessuno può gestire la verità cioè la gente è abituata quindi si può si può sviluppare da quello che lui voleva dire che come generale primo non era tenuto a dire la verità perché c'era un segreto militare secondo la verità come verità non interessa niente a nessuno perché le persone sono talmente diseducate che sono abituate a accettare più le bugie della verità l'abbiamo vista anche la volta scorsa no con l'espressione di Mark Twain ti ricordi ne hai fatto un commento anche te giusto stessa cosa stessa cosa ecco questo l'ho detto perché in sintonia col discorso della verità bisogna stare attenti quando si dice la verità perché ti fai più nemici che amici esatto però purtroppo io personalmente non conosco altre vie magari un altro conosce una scorciatoia no ma non necessariamente la scorciatoia è veritiera e risolutiva dei problemi non lo è quasi mai allora ci sono altre domande che dice qua codice onore sì 1992 va bene via insomma mi sembra che sia tutto sotto controllo andiamo avanti cambiamo argomento cambiamo argomento e andiamo a quello che abbiamo di cui abbiamo parlato la volta scorsa la situazione finanziaria in generale allora la volta scorsa cosa vi ho detto vi ho detto convocate subito il nostro vostro consulente finanziario chiedeteli come qual è la situazione reale nella borsa come è possibile avere un picco di o no del genere del genere del genere come quello che abbiamo oggi quando le aziende chiudono eccolo qua lo vogliamo rivedere il down john questo è fresco fresco l'ho chiesto a un mio amico che lavora a wall street lo vedete questo qui me l'ha mandato lui col telefono questo è il down john di ieri vedete oltre 31.000 quasi a 31.500 punti e poi lo vedete no qui ci abbiamo la nasda vedete 13.000 punti guardate il picco guardate il picco una cosa incredibile come se l'economia fosse al al massimo possibile guardate e poi c'è l'SP 500 che anche questo come vedete sono tutti in crescita tutti in crescita allora fate una cosa molto semplice prima di tutto voi vi fidate del vostro consulente finanziario fate bene perché sicuramente una persona qualificata di fiducia e io capisco perfettamente gli ponete la questione mi dai delle spiegazioni come è possibile che questa situazione qua sia reale e suggerisci niente che possiamo fare in questo momento perché se per caso ci fosse un crollo qui si rischia di perdere tutto e poneteli queste domande per capire veramente con chi avete a che fare io vi ho mostrato le quotazioni praticamente del Dow Jones che si chiama Dow Jones che è diciamo quello principale no e poi c'è la Nasdaq che si chiama Nasdaq e poi c'è S&P 500 allora chiedeteli che cosa vogliono dire queste tre cose e quali sono i criteri le aziende con le quali vengono classificati all'interno di questi tre diciamo grandi gruppi di aziende se vi danno delle risposte precise sono consulenti finanziari qualificati perché voi capite loro vendono queste cose qui non è possibile che non sappiano queste cose le so io le dovrebbero sapere anche loro sono cose e invece non le sanno ve lo dico subito non sanno la minima idea di che cosa vuol dire S&P 500 non hanno e che cosa cosa vuol dire S&P che poi fra l'altro è forse uno dei parametri più importanti ora non c'è tempo per spiegare però sicuramente uno dei diciamo degli indicatori sono solo indicatori questi più importanti nelle quotazioni generali del mercato e poi c'è la Nasdaq che non sanno sicuramente non è possibile che sappiano anche tanti operatori qui a New York non sanno quello che vuol dire quindi questo vi dà l'idea purtroppo purtroppo di quanta superficialità ci sia anche a livello professionale e mi dispiace dire queste cose ma io ve le dico per il vostro bene perché poi quando ci sarà la crisi finanziaria e prima o dopo ci sarà di certo io non sono uno di quelli che poi viene a dire io ve l'avevo detto io ve l'avevo detto però vi dico questo vi do reso conto dell'ultima settimana che ha chiuso in passivo di 600 punti perché il down zone ha perso 600 punti venerdì scorso la settimana peggiore del del diciamo della storia recente quindi può darsi che certi segnali comincino a farsi sentire eh infatti infatti allora eh sì il caso game game shop esatto concetto è proprio quello lì sì proprio quello lì però ora non ci voglio entrare poi non ho non ho letto molto non so i dettagli però è quel caso lì sì è proprio così allora adesso partiamo passiamo a una domanda ubaldo dimmi no infatti dice peter russo dice la finanza vive grazie alla speculazione infatti finché gli va bene gli va bene poi sapete la cosa la cosa positiva per queste persone diciamo che loro non pagano mai il broker non paga mai qualsiasi cosa succede lui guadagna sia quando compra che quando vende quindi in questo caso quando parlate anche col vostro consulente lui in una situazione di incertezza dove dovrebbe veramente incoraggiarvi a vendere perché ci guadagnano altra volta fra l'altro eh sì sì allora adesso cambiamo argomento e veniamo al piano b ecco volevo mettere a fuoco un attimino me l'hanno chiesto in tanti il discorso dei visti cioè dice noi veniamo là qui c'è una situazione d'emergenza veniamo là ma che veniamo a fare abbiamo bisogno di informazioni no sul sul tipo di visto per aprire un'attività per fare queste cose ci sono vari tipi di visti tenete presente questo che queste sono grosso modo disposizioni che sono le stesse un po più un po meno a livello internazionale cioè per spostarsi a meno che tu non abbia un visto studente a meno che tu non abbia una lettera di richiamo di un'azienda in questo caso della Thailandia che ti assume e questa è una cosa che potete anche richiedere potete darvi da fare se sei un professionista non hai problemi perché sei un dentista sei un medico sei uno di quelli scritti all'ordine eh capirci scritto all'ordine te un po più un po meno il visto te lo danno poi sta a te naturalmente trovarti posto di lavoro però il visto te lo danno non c'è problema su questo i pensionati naturalmente che possono provare che hanno una pensione non hanno nessun problema tutti coloro che non sono ancora in età pensionabile ma per esempio come me che fa comunque lavoro di consulenza io ho anche qualche reddito dall'italia ma lasciamolo perdere quello il lavoro di consulenza che lavoro su internet eccetera eccetera vi dico una cosa che non vi dovrei dire se voi fate business su internet non dovete dichiarare niente e non vi viene a cercare nessuno avete il vostro visto turistico avete il vostro alloggio pagate l'alloggio non fate niente di illegale seguite la legge per cui ogni tre mesi uscite dal paese vi andate a fare una bella vacanzina di due o tre giorni e poi rientrate vi danno il visto senza problemi per 5 6 10 15 anni di di fila e non vi chiede niente nessuno il problema sussiste evidentemente quando dovete lavorare allora avete bisogno della carta di lavoro e naturalmente ci sono dei requisiti particolari che dovete seguire allora per quello che riguarda i professionisti in particolare gli imprenditori coloro che vogliono venire la io è chiaro che sarò più che contento di assisterli anzi a dir la verità il mio obiettivo detto tra noi tanto non ci sente nessuno siamo quattro gatti è quello di portare su 10 12 famiglie almeno 50 per cento di gente che vuole aprire ristoranti che vuole comprare una miniera d'oro che magari ci divertiamo un po' andiamo a cercare l'oro insieme che vuole fare 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 cose fare cose che vuole anche rimettersi in discussione come feci io tanti anni fa e ci vuole coraggio per farlo io capisco ma se non lo fate adesso che avete due soldi in tasca quando lo fate che dopo rischiano di levarvi tutto lo sai guardo meglio di me hai qualche soldino e stai pensando di fare le scelte giuste no certo 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 allora in tanzania ci sono tre tipi di visti a b e c il visto a viene rilasciata a coloro che hanno già ottenuto un visto precedente si trovano in tanzania già per lavoro e allora vanno dall'avvocato e applicano secondo il settore merceologico che hanno deciso nel quale operano per il visto a poi ci sono altri due tipi di visti che sono visto b e visto c questi invece vengono fatti e vengono ottenuti quando si è all'estero è tipo il visto che ho ottenuto io quando sono venuto in america e fatto seguire tutta la procedura è successo un casino della madonna ma io non vi voglio annoiare dicendovi queste cose però diciamo tecnicamente sono venuto con un visto e perché ho fatto un certo tipo di investimento e quindi mi hanno dato poi il visto che volevo io visto ora sto ancora lavorando su questa situazione quindi mi potete contattare ma io per onestà non vi posso dire adesso 1 2 3 perché è molto difficile ottenere queste informazioni in generale gli avvocati per ovvie ragioni non ve le vogliono dare perché se no poi dopo diciamo ti puoi sostituire no all'avvocato e quindi loro se le tengono ben strette però dalla documentazione che è presente su internet e da allora ve le faccio anche vedere perché ho delle foto se no io qui parlo 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 vediamo un po come di che ho chiuso è o madonna ho chiuso tutto io che stupido scuse perdonatemi non ho chiuso le foto e non credo che potrò riaprirle ecco comunque non abbottanza tanto vediamo un po se riesco a riaprirle perdonatemi un secondo forse riescare a riaprirle così almeno ci si lavora meglio un po anzi se non ce la dovrei fare riaprirle eccole qua eccole qui application application share ok dovrei avere le riaperte perdonatemi allora si va giù vi faccio vedere queste cose qui ecco dove siamo ora poi dopo vi dico delle altre cose come vedete in questo caso qui vedete si parla di visti no in questo caso qui in questo caso qui vedete ci sono se andate su internet ci sono tutte queste informazioni l'unica cosa che non sono chiare adesso è l'investimento però l'investimento da fare è molto flessibile ve lo dico io perché per esempio per venire in america all'epoca quando sono venuto io in teoria ci voleva mezzo milione di dollari di investimento e invece poi nella pratica non è così perché te vieni qua col visto di lavoro cominci aprire l'attività a fare quello che devi fare a quel punto l'avvocato comincia a mettere insieme tutte le fatture che dimostra che testa facendo business che stai dando posti di lavoro a questo caso e tanzaniani eccetera eccetera e automaticamente poi diciamo l'ufficio di immigrazione te l'accetta perché c'è un avvocato che lo presenta naturalmente e quindi l'accetta però ci sono molte informazioni vedere questo che per esempio se lo volete vedere sono i visti che vi dicevo prima a b e c vedete residence permit matrix class abc e qui ci sono una lunga sfilza a seconda se vuoi investire essere un investitore nelle miniere se vuoi invece essere un imprenditore delle miniere cioè in una con una forma diciamo finanziaria diversa ecco vedete tanto questa informazione ve la posso dare importante allora la fi i costi per applicare per un visto visa visa costano circa 3000 dollari più 1550 questo è per diventare cittadini della federazione degli stati africani dell'est è un'altra cosa lasciate la parte fare questa qui più circa circa 1000 dollari per l'avvocato quindi diciamo che per avere un visto b vi costa un visto di questi qui a b o c vi costa circa 4000 dollari che sono 3500 euro è una cifra importante ma per un investitore naturalmente non è che sia una è una cosa evidentemente sostenibile ritorniamo adesso un attimo indietro per parlarvi di auvesta dell'oro abbiamo visto la crisi finanziaria abbiamo visto che c'è questo rischio e allora all'interno del piano b io voglio delle garanzie perché chi viene con me non posso prendere se non da un minimo di garanzie ma queste è ovvio a buon senso deve funzionare così quindi l'investimento richiesto che è comunque minimo è un investimento di garanzia e approfitto per dirlo in questo momento deve rimanere sotto garanzia per sei mesi inizialmente avevo detto un anno la sostanzialmente questa membership che vi dà la possibilità di utilizzare tutta una serie di servizi e di trovare un appartamento quando venite facciamo tutta insomma vediamo un welcome quando venite vi mettiamo a disposizione di professionisti eccetera eccetera dura solo sei mesi allora cosa avviene qui sostanzialmente abbiamo che il programma che il discorso investimento nell'oro che comunque è un conto corrente che se lavorate con me quindi partecipate al piano b deve essere fatto solo con auvesta per ragioni di garanzie sostanzialmente ma anche perché ovesta lavora lavora in definitiva come pur non essendo una banca lavora come una banca quindi voi potete fare il trasferimento comprare oro però nello stesso tempo potesse avete bisogno e c'è un'emergenza vi rivendete ora e l'utilizzate come un conto corrente è evidente che tutta questa bella operazione se comprate oro da un rivenditore normale non la potete fare e avete tutta una serie di limitazioni che adesso cercherò di illustrarvi con un po di pazienza ma è essenziale capire questa cosa vediamo all'immagine successiva la vedi ecco questa è una barra d'oro certificata al 99.9 per cento da questa azienda qui che si chiama ereus che è l'azienda più importante di certificazione al mondo rispetto a qualsiasi altra ora poi vi faccio vedere i numeri così li capite da soli ed è l'azienda che certifica l'oro di auvesta ora perché è importante andiamo all'immagine successiva perché è importante questo aspetto questo aspetto è importante perché purtroppo bisogna rendersi conto che il sistema nel quale si vive non è proprio così perfetto come sappiamo ci sono tanti imbroglioni e siccome noi non siamo degli esperti di metalli preziosi in linea di massima no quando si decide di investire in questi cosi in queste cose ci affidiamo a chi ci vende alla gente che ci vende l'oro ci vende la gente sarà sarà saranno nella stragrande maggioranza onesti ma è sempre bene dubitare allora vedete in questo caso qui l'azienda più importante al mondo è l'eraus che vi avevo detto con 25.1 bilioni ho detto bilioni di revenue poi la seconda più importante è questa qua non so come mai non l'hanno messa in ordine è questa qui la jm con 18 bilioni e poi ci sono tutte le altre in ordine sparso grosso modo ma questa che vi ho detto io è sicuramente la più importante perché è importante questa cosa è importante perché con quando voi vi affidate ad aziende che lavorano con i grandi banchieri vi ho detto il vaticano i grandi personaggi della nobiltà tutti questi grandi ricconi ma dove pensate che lo tengano l'oro sotto il materasso ora in casa puoi tenere 5 10 mila dollari in 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 monetine no perché se c'è una crisi come vi ho detto la cosa bella di avere l'oro in casa è che ti compri le monetine di quelle piccole da un grammo di argento sono proprio 30 euro hai bisogno di andare a fare la spesa utilizzi una di quelle ma per per investimenti superiori a 10 mila euro che fai ordini 20 mila euro di monetine e te le tieni in casa e dove le metti e dove le nascondi e se c'è un bisogno dovrai pure dirla qualcosa a qualcuno dove le hai messo l'oro e a chi lo dici ti fidi io mi fiderei di nessuno io sono una persona molto positiva ma non mi chiedere di mettermi 50 mila euro di riserve che mi sono fatte in anni e anni e anni di lavoro in in casa oppure nasconderle e sotterrarle no sotterrarle nel giardino un po' qui un po' là un po' senza garanzia perché poi lo dovrai dire a qualcuno ti succede qualcosa qualcuno deve pure andare lì a scavare ma è una cosa ridicola sinceramente io non lo farei mai c'è un ulteriore aspetto che è quello legato alla sicurezza ho fatto delle ulteriori verifiche ed effettivamente nessuno è in grado di toccarvi in nessuna maniera il deposito di oro depositato sotto vostro nome presso la uvesta nessuno nessuno perché c'è una disposizione talmente contorta a livello internazionale per cui dovrebbero fare delle rogatorie anche qualora fosse messa una disposizione di legge da parte di un governo i governi non hanno accesso a questi a questi conti sono tutti conti super riservati e non possono fare praticamente niente infatti sull'oro non si pagano tasse e non si pagano tasse perché l'oro è la riserva dei ricchi e loro le tasse non le hanno mai pagate se solo un po' di tasse sull'argento e un pochino di tasse superiore sul platino e palladio io suggerisco sempre di diversificare l'investimento di prendere circa 50 per cento di oro e poi di dividere in tre diciamo 20 15 15 una cosa di questo tipo e gli altri investimenti in altri metalli metalli preziosi ecco naturalmente se avete volete maggiori informazioni io vi vendo il concetto del vantaggio dell'una soluzione e dell'altra poi sta a voi fare le vostre ricerche se volete maggiori informazioni me lo fate sapere io vi metto in contatto con il mio agente Walter che naturalmente vi seguirà e vi spiegherà tutto sin dall'inizio sono già molto contento perché alcuni amici hanno già sottoscritto ve lo dico chiaro anche per cifre importanti sia solo come oro sia per partecipare al piano b il piano b parentesi è in evoluzione sarà pronto anche sto preparando dei video di presentazione con l'agenzia immobiliare qualche cosa di semplice ma di carino a metà di febbraio e a metà di febbraio metterò tutto insieme anche se un imprenditore qualcuno che vuol fare insomma una cosa proprio fatta bene professionalmente parlando mi può sicuramente contattare avrò le idee più chiare perché finché a che non ho le idee chiare non ho intenzione di sottoscrivere nessun contratto cioè di non prendere soldi a nessuno certo allora adesso andiamo all'ultima parte a che minuto siamo un'ora oh mamma mia un'ora non me lo dire allora vi leggo brevemente l'ultima cosa 10 minuti un quarto d'ora ora spero di farvi sorridere in un certo senso no allora dice il motto della tanzania è libertà e unità in shaili che è la lingua del posto si dice io ho dedicato un pochino di tempo per cercare di capire la lingua le difficoltà con la lingua e mi sembra di aver capito che sia una lingua abbastanza semplice per noi da imparare un po' così perché usa le lettere e la pronuncia dell'alfabeto nostro cioè la A è A la E è E non è come i giapponesi non è come non è come in inglese che è tutto un casino anche i giapponesi usano la pronuncia dell'alfabeto nostro benissimo allora ora ti dico libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta chi l'ha detto libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta te lo dico io dante canto 1 71 72 questo l'ho ricollegato alla libertà che è uno dei motti io stavo dicendo un altro conterrano di dante ma che perché mi sembrava una frase di magnifico invece noi andiamo andiamo avanti veloce che non altrimenti viene allora punto successivo nuovo ordine mondiale dallo studio effettuato mi sembra stiano cioè loro intervenendo su tre aree principali la salute con la stracchinizzazione della maggior parte della popolazione che faranno in step diversi e che continuerà almeno due tre anni ho anche il sospetto che i vaccini ne avranno diversi richiami nel corso degli anni cioè qui almeno in america i vaccini si fanno in due fasi diverse quello della pfizer mi sembra lo fai oggi e poi lo rifai dopo tre settimane quello di moderna lo fai otto e poi lo rifai dopo quattro settimane ma non è finita qui perché i richiami saranno necessari poi ne parleranno nei prossimi anni economia il crollo della stessa sarà funzionale al progetto programmato e accolto come una vera benedizione direbbe monti sociale il distanziamento sociale le mascherine da indossare e anche quando anche quando fate la doccia e altre iniziative sono mirate a cambiare drasticamente la struttura della società e questo per sempre mi chiedo ma a che cosa serve stracchinizzare tutti se niente deve cambiare per continuare come ora poi perché gli animali non vengono stracchinizzati potrebbero essere dei portatori asintomatici come lo è la frutta con grande gioia degli animalisti 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 propongo ora in poi anche il modernissimo cpr anale anche per coloro anche per anche per loro degli animali e propongo il presidente uscente conte come ministro senza portafoglio del suddetto buco nero questa battutaccia mi ricorda quando scherzando con i miei figli michele nicola gli dicevo ragazzi ricordatevi che la vita è tutta una questione di buchi neri e non solo come peraltro ci sei Ubaldo Ubaldo non lo sento più che è successo adesso Ubaldino è sparito sono in onda io continuo Ubaldo è sparito io continuo si vede se è scandalizzato per quello che ho detto non lo so bene 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 ci sei allora vado avanti si prego si è sentito no la battutaccia si è sentita giusto come peraltro è avvenuto in altri casi vedi 11 settembre gli obiettivi del nuovo ordine mondiale sono multipli multipli e mai uno solo domanda ma dove sono finiti i terroristi di al Qaeda sono tutti stati sterminati dal covid che io chiamo 91 di voc a proposito ricorderete che nel mio intervento avevo deciso di invertire il nome per non incorrere nella censura usando lo stesso criterio del canale di Suez che deriva da Zeus bene poche settimane fa ho scoperto che senza saperlo avevo realizzato ciò che i cabalisti avevano già pensato quando definirono il nome del virus infatti il nome deriva proprio dalla parola di voc che in ebraico significa possesso da parte di uno spirito malvagio lo sapevi e pensare che quando ho deciso di chiamarlo di voc per evitare la censura non ne sapevo assolutamente niente questi maghi cabalistici non finiranno mai di stupirci quindi la stracchinizzazione a cui stiamo assistendo è la provvidenza di dio che ripulisce la terra dagli spiriti malvagi noi credete che stia scherzando no no ho sottolineato molte volte l'importanza della simbologia dei segni della numerologia della cabala e dei codici segreti e quant'altro concludo questo intervento con una dichiarazione autorevolissima che dice quando la rossamana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini chi l'ha detto questa è una idea che l'abbia detto allora questa qui è una cosa che ho letto un'altra volta l'ha detto manny p hall un iniziato naturalmente una verità sacrosanta perché in effetti è vero ecco quindi bisogna lavorare in questa direzione approfondendo tutto quello che riguarda la numerologia la simbologia ci sono dei libri disponibili comprateli non avete bisogno di comprare i miei prima dovete studiare bene i fondamentali allora poi magari sarà più facile capire quello che cerco di comunicarvi all'interno di quello che ho scritto io ecco io direi che possiamo concludere qua a meno che non ci siano domande non ce ne sono comunque la frase ultima che hai detto è verissima ma quando l'uomo capirà certe cose quando la città consapevolezza e quindi volontà di approfondire studiare certe cose quindi questo caso i simboli beh allora sì che cadranno un sacco di maschere quello è poco ma sicuro benissimo caro maschio ti ringrazio io concludo qua obaldo il lavoro per il momento che abbiamo fatto io ho cercato in tutte le maniere di dare per quello che potevo il mio contributo non ti nascondo non ti nascondo e lo con grande rammarico purtroppo non sono riuscito ad incidere nella maniera in cui avrei voluto nelle correggere la direzione e la linea chiamiamola così si fa per dire editoriale del canale che ovviamente io rispetto no no si può cambiare anzi ci vuole e dipende se tante cose quindi dipende da molte cose però non è che non si può cambiare si può cambiare si deve cambiare come cioè bisogna migliorare insomma questo è poco ma sicuro ma benissimo migliorare assolutamente questo guai a stare fermi così infatti tra un decino di giorni o poco più se tutto va bene se i tempi non me li slittano ma penso che stavolta si hanno già sentati prima quindi siamo proprio alle passa finalissima dovremo veramente dare un aspetto diverso a questo canale diventare una cosa di molto più importante di quello che si vede in giro questo è proprio sicuro ma ricordo ricordo finale due parole che ho fatto la seconda intervista con mori sun sarà mi ha promesso che sarà pubblicata resa pubblica per tutti mi sembra che l'intervista gli sia piaciuta è andata bene e quindi ecco spero che che ci sia almeno la possibilità naturalmente nell'intervista menziono te menziono il canale e quindi naturalmente questo lo devo fare e quindi sentiamoci a presto faccio un auguri a tutti e spero vivamente che quando la prossima volta mi collegherò lo farò dalla tanzania questo ve lo dico proprio se no non mi vedete più ciao ciao ci vediamo in come a presto